In questo tutorial vediamo come risolvere equazioni trinomie, un'equazione trinomie composta da tre termini dove il termine medio ha grado che risulta essere la metà del termine maggiore. Per risolvere questo esercizio porremo il termine medio, ossia x alla terza, uguale t. Di conseguenza x alla sesta, che può essere riscritto come x alla terza alla seconda, sarà uguale a t quadro. Questo perché x alla terza è pari a t. Riscriviamo ora l'equazione in t, ottenendo così un'equazione di secondo grado che andiamo a risolvere. Applicando la formula risolutiva, devo scrivere b alla seconda meno 4ac. b è questa quantità, sviluppandola al quadrato ottengo il quadrato del primo 64, poi 3 radici di 3 alla seconda ottengo 27 e come doppio prodotto ottengo 48 radici di 3, meno 4 volte ac e moltiplico meno 4 per 24 radici di 3, ottenendo meno 96 radici di 3. 64 e 27 li ricopio così come sono, eseguo solo la differenza di 48 radici di 3 con meno 96 radici di 3, ottenendo meno 48 radici di 3. Questi tre termini risultano essere il quadrato del binomio di 8 meno 3 radici di 3 alla seconda. Scritto in questa maniera posso semplificare il 2 con la radice quadrata e poi separo le soluzioni e a conti fatti ottengo 8 e 3 radici di 3. Ancora non ho finito perché in questo modo ho determinato le soluzioni in t, io devo determinare le soluzioni in x. Tenendo presente che x alla terza è pari a t, andrò a scrivere una volta x alla terza uguale 8 e, estraendo la radice cubica di tutte e due membri, ottengo radice cubica di 8, che è pari a 2. E poi, un'altra volta, devo porre x alla terza uguale a 3 radici di 3. Questo 3 radici di 3 conviene scriverlo in un'altra maniera come 3 per 3 alla un mezzo. Sommando 1 con un mezzo ottengo 3 alla tre mezzi. In altre parole, 3 radici di 3 può essere riscritto, utilizzando le proprietà delle potenze, come 3 alla tre mezzi. Estraggo ora la radice cubica di tutte e due i membri. In questo modo semplifico 3 con la radice cubica e a secondo membro, e a secondo membro posso semplificare 3 con radice cubica di 3, ed ottengo x uguale 3 elevato alla un mezzo, ossia radice di 3. Risolviamo quest'altro esempio. Per esempio, è un'equazione trinomia, il termine medio è x alla quinta, e allora pongo x alla quinta uguale t. Di conseguenza, x alla decima, che può essere riscritto come x alla quinta alla seconda, viene scritta come t alla seconda. Ottengo così un'equazione di secondo grado in t, t alla seconda meno 30t meno 64 uguale 0, e adesso la vado a risolvere. A conti fatti, otteniamo 32 e meno 2. Ancora non abbiamo finito, dobbiamo determinare le soluzioni in x, e allora pongo una volta x alla quinta uguale 32. Tenendo presente che 32 è uguale a 2 alla quinta, estraendo la radice quinta di tutte e due i membri, e semplificando le radici con le potenze, otteniamo x uguale 2. Passiamo al secondo caso, quando t è uguale a meno 2, e allora devo scrivere x alla quinta uguale meno 2. Estraggo la radice quinta di tutte e due i membri, e quello che ottengo è x uguale radice quinta di meno 2. Vediamo questi altri due esempi. Partiamo dal primo. Pongo x alla terza uguale t, di conseguenza x alla sesta è pari a t alla seconda, sostituendo, si ottiene t alla seconda meno 10t più 16 uguale 0. Ho un'equazione di secondo grado che vado a risolvere. A conti fatti, otteniamo 8 e 2, e allora vuol dire che devo scrivere una volta x alla terza uguale 8, ed un'altra volta x alla terza uguale 2. Estraendo la radice cubica di tutte e due i membri, otteniamo x uguale 2, e qui, estraendo la radice cubica di tutte e due i membri, otteniamo x uguale radice cubica di 2. Passiamo a quest'altro esercizio. Poniamo x alla quinta come t, e allora x alla decima sarà pari a t alla seconda, sostituendo, si ottiene t alla seconda meno 4t più 3 uguale 0. Ho un'equazione di secondo grado che risolvo. A conti fatti, otteniamo come soluzioni meno 3 e meno 1, e allora vado a scrivere x alla quinta uguale meno 3, e poi x alla quinta uguale meno 1. Estraendo la radice quinta, otteniamo x uguale radice quinta di meno 3, e, in quest'altro caso, radice quinta di meno 1 è pari a meno 1, e quindi scrivo direttamente meno 1. Risolviamo questi altri due esercizi. In questo caso, prima di tutto, eseguo la moltiplicazione e porto meno 2 a sinistra. Dopo aver eseguito questa moltiplicazione, possiamo semplificare 2x quadro con meno 2x quadro, e 4x con meno 4x, cambiando segno, e sommando poi 8 con 2, otteniamo 10. Abbiamo così un'equazione trinomia. Andiamo a porre x alla terza uguale t, e di conseguenza x alla sesta è pari a t quadro. Sostituendo, otteniamo t alla seconda meno t più 10 uguale 0. Abbiamo così un'equazione di secondo grado che risolviamo. Osserviamo che come delta otteniamo una quantità negativa, e allora questa equazione risulta essere impossibile, e di conseguenza anche l'equazione di partenza è impossibile. Vediamo quest'altro caso. Poniamo x alla quinta uguale t, e di conseguenza x alla decima è pari a t alla seconda, e possiamo scrivere t alla seconda più 3t meno 4 uguale 0. Risolviamo ora questa equazione. Ed otteniamo come soluzioni meno 4 ed 1. Tenendo presente che x alla quinta è pari a t, allora scriverò una volta x alla quinta uguale meno 4, e un'altra volta x alla quinta uguale 1. Estraendo qui la radice quinta di tutte e due i membri, otteniamo x uguale radice quinta di meno 4. Passando al secondo caso, la radice quinta di 1 è 1, e quindi scriverò x uguale 1. Vediamo questi altri due casi. Partiamo dal primo. Essendo un'equazione trinomia, pongo x alla sesta uguale t, e allora x alla dodicesima sarà pari a t alla seconda. Scriviamo in t l'equazione che otteniamo, t alla seconda meno 10t più 9 uguale 0. Ora risolviamo l'equazione. A conti fatti, otteniamo 9 ed 1. Tenendo presente che x alla sesta è uguale a t, allora devo scrivere una volta x alla sesta uguale 9, e un'altra volta x alla sesta uguale 1. 9 lo posso riscrivere come 3 alla seconda, ed ora estraggo la radice sesta di tutte e due i membri, mettendo un più o meno a secondo membro, ricordando che l'indice risulta essere pari. Semplifico e a secondo membro quello che mi rimane è x uguale più o meno radice terza di 3. Nel secondo caso, estraendo la radice sesta di 1, otterremo più o meno radice sesta di 1, ossia più o meno 1. Vediamo quest'altro caso e poniamo x alla terza uguale t. Di conseguenza x alla sesta è pari a t alla seconda. Sostituendo, otteniamo t alla seconda più 6t meno 7 uguale 0. Otteniamo un'equazione in t che risolviamo ed otteniamo meno 7 ed 1. E allora devo scrivere una volta x alla terza uguale meno 7 e un'altra volta x alla terza uguale 1. Nel primo caso, estraendo la radice cubica di tutte e due i membri, otteniamo x uguale radice cubica di meno 7. Nel secondo caso, radice cubica di 1 è pari a 1 e quindi scrivo direttamente 1. Vediamo questi ultimi due esempi. Partiamo dal primo. Poniamo x alla quarta uguale t. Di conseguenza, x all'ottava è pari a t alla seconda. E allora abbiamo t alla seconda meno 6t più 5 uguale 0. Risolviamo ora l'equazione di secondo grado. A conti fatti, otteniamo 5 ed 1. E allora vuol dire che una volta scrivo x alla quarta uguale 5 e un'altra volta x alla quarta uguale 1. Nel primo caso, estraendo la radice quarta, avrò x uguale più o meno radice quarta di 5. Nel secondo caso, la radice quarta di 1 è 1 e quindi scrivo x uguale più o meno 1. Vediamo quest'ultimissimo caso. Poniamo x alla terza uguale t. di conseguenza, x alla sesta è pari a t alla seconda ed otteniamo t alla seconda meno 6t meno 16 uguale 0. Risolviamo ora l'equazione di secondo grado. E a conti fatti, otteniamo 8 e meno 2. E allora vado a scrivere una volta x alla terza uguale 8 e un'altra volta x alla terza uguale meno 2. Nel primo caso, estraendo la radice cubica di 8, otteniamo 2 e quindi come soluzione avrò x uguale 2. Nel secondo caso, estraendo la radice cubica, ottengo x uguale radice cubica di meno 2. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere equazioni trinomie.